I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno individuato un laboratorio di estrazione e produzione di cocaina e hanno arrestato in fragranza di reato quattro persone ritenute responsabili di produzione di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di una perquisizione ed iniziativa presso un bar sito in pieno centro a San Giusto Canavese, hanno scoperto nel locale Cucina un laboratorio dotato del materiale occorrente all'estrazione di cocaina. Nello specifico sono stati rinvenuti dei recipienti contenenti complessivamente 6 litri di solvente che deprime certamente il risultato contenere sostanze stupefacenti del tipo cocaina. In altri recipienti i carabinieri hanno trovato centinaia di pagine di testi giuridici intrise di cocaina da ricavare attraverso processi chimici. Le pagine erano appollottolate ed i primi accertamenti sono risultati intrise. Giovedì sera i militari hanno notato quattro persone uscire dal bar chiuso perché l'attività sarebbe cessata da qualche giorno. I quattro sono stati bloccati e identificati. Si tratta di un italiano che ha lavorato presso il bar, due peruviani e un colombiano, rispettivamente di 41, 29 e 27 anni. Incensurati sono stati dichiarati nel resto per concorso in produzione di sostanze stupefacenti.